Gara meno tre sorride ad Atlanta si porta in vantaggio 2-1 nella serie. Decisivo il 29-13 nel secondo quarto, 22-5 il parziale prima dell'intervallo lungo. La maniera migliore per celebrare il ritorno all'arena di 15.743 appassionati in Georgia, tutto esaurito. Trae Young chiude con 21 punti e 14 assist la sua prima partita di playoff in carriera in casa ed è soltanto uno dei sette giocatori degli Ox a terminare in doppia cifra. C'è infatti anche la doppia-doppia da 15 punti e 12 rimbalzi di Clint Capella, 6 ottavi al tiro, i 15 e 8 rimbalzi raccolti da Bogdan Bogdanovic, i 14 di John Collins. Il ritorno a casa di Atlanta fa bene anche a Danilo Gallinari, che ritrova la mira dalla lunga distanza in un match da 4 quarti dall'arco e 12 punti in uscita dalla panchina. 24 minuti sul parquet in cui l'ennegrado 8 azzurro raccoglie anche 4 rimbalzi e mette a referto un assist e un recupero. Rimane veramente poco da fare ai Knicks, aggrappati alla prima gara da titolare ai playoff dal 2015 a oggi di Derrick Rose. 30 punti con 13 ventunesimi al tiro, 6 rimbalzi e 5 assist per lui. Pessima serata al tiro. Due quindicesimi, per Julius Randall. Serie riaperta contro Brooklyn da Boston. Trascinata da uno straordinario Jason Tatum che permette ai Celtics di allungare a metà terzo quarto, toccando anche 17 punti di margine. I Nets si riportano a contatto nel finale, ma i canestri cruciali dell'ennegrado 0 dei padroni di casa consentono ai Celtics di accorciare sul 2 a 1. Tatum chiude con 50 punti a referto in 41 minuti. 16 trentesimi dal campo, 5 undicesimi dall'arco, 13 quindicesimi ai liberi, 6 rimbalzi, 7 assist, 2 recuperi. Il talento 23enne di Boston diventa così il terzo più giovane all-time a toccare quota 50 in una gara play-off. Si tratta della quarta prestazione con così tanti punti in carriera in maglia Celtics, le stesse fatte registrare da Larry Bird. A tutto il resto pensano i 23 punti di uno straordinario Marcus Smart. Enorme sia anche difesa. Chirurgico con il suo 8 undicesimi dal campo e soprattutto 5 ottavi dall'arco, a cui aggiunge 6 assist e un paio di sfondamenti subiti negli ultimi minuti di gioco. Decisivo anche il 4 settimi dalla lunga distanza di un Evan Fournier da 17 punti. Non bastano agli ospiti le grandi prestazioni di Arden, 41, e Durant, 39, tornano in corsa anche i Los Angeles Clippers, travolti a inizio match dalla pazzesca partenza di Dallas, trascinati come al solito da un incontenibile Luka Doncic. Crollati sul meno 19 già nel primo quarto, 30 meno 11, gli ospiti trovano comunque la forza per risalire, aggrappandosi al perfetto primo tempo di Paul George, 22 punti prima dell'intervallo lungo, e raccogliendo un 57,9% al tiro di squadra che consente ai Clippers di evitare di sprofondare sul 3-0 nelle serie e di tenere in vita ancora le speranze di qualificazione. A rovinare il debutto play-off di Doncic, partito con un 8-0 di parziale nei primi due minuti, è la coppia di All-Star dei Clippers. Paul George ne segna 29 con 11 diciottesimi al tiro e 7 rimbalzi, a cui si aggiungono i 36 di un Kaui Leonard che non sbaglia quasi mai, 13 diciassettesimi dal campo, 8 rimbalzi e 3 assist. Al resto pensano le triple nel finale di Marcus Morris SR, 15 punti con 3 quinti dalla lunga distanza. Per lo sloveno dei Mavs ci sono pochi rimpianti personali, 44 punti con 15 ventottesimi dal campo, 7 tredicesimi dall'arco, 7 tredicesimi ai liberi. Nona gara play-off in carriera da ricordare. Nessuno ha mai raccolto numeri del genere nelle prime partite play-off della propria carriera. S нормalerma niente non lo sloveno dei L prints. La per Liftamental non lo sloveno dei grossi e rifspritati alla superficie di 34 punti con 16 duriella. Nona gara, anche per la hine? È un dirty rit ample, è un raiper. È un ... Giusti romano. Grazie a tutti.